Dalla prossima settimana non sarà più svolto il servizio dedicato di raccolta rifiuti covid. I cittadini positivi a coronavirus dunque potranno tornare a fare la raccolta differenziata porta a porta secondo l'ecocalendario del proprio comune di residenza o domicilio avendo la sola accortezza di utilizzare doppia busta. In pratica ogni materiale sarà separato e conferito secondo i giorni dell'ecocalendario nel mastello corrispondente con il doppio sacchetto di rifiuti per persone positive. In più anche i non positivi a scopo precauzionale dovranno mettere in busta separata nel secco residuo differenziato fazzoletti di carta, rotoli di carta asciugamano, mascherine, guanti, tamponi rapidi, materiali che possono essere stati contaminati. Bisognerà chiudere bene i rifiuti indossando guanti monouso se possibile senza schiacciare le buste facendo attenzione agli oggetti taglienti o a punta che andranno avvolti nella carta o inseriti in un contenitore. La regione Abruzzo ha ricevuto le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità del 3 marzo scorso. Ha emanato un'ordinanza apposita alla numero 4 dell'11 marzo sulla gestione di rifiuti urbani associati dal virus SARS-CoV-2. Il provvedimento di fatto impone lo stop alla raccolta rifiuti covid nei comuni abruzzesi alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica e della necessità di garantire il mantenimento della raccolta differenziata. Vista la doppia raccolta settimanale di rifiuti covid attivata da Coggesa, si è deciso di aspettare fino a sabato compreso per fare un ultimo ritiro a tutte le utenze servite, più di mille al momento, evitando alle persone di dover separare rifiuti già mischiati in precedenza. Come da precedente modalità di raccolta, l'ordinanza regionale ha una validità di due mesi. Sarà premura del Coggesa adeguarsi ad eventuali nuove istruzioni che arriveranno dalla regione Abruzzo. Dall'inizio della pandemia Coggesa ha gestito circa 10.000 utenze uniche positive al covid, con doppio passaggio settimanale chiamata degli operatori prima del turno, che nei condominio e nelle residenze bifamiliari veniva effettuato davanti la porta dei singoli appartamenti.